Comi, prima amichevole, subito due reti e complimenti a tutti i presenti. Com'è andata? È andata bene, è stato un test amichevole dove l'importante era amalgabarsi bene con i compagni, trovare le giocate e soprattutto mettere il minuto giù nelle gambe, quindi questa è stata una bella amichevole per questo. Proprio a proposito dei nuovi compagni, come ti stai trovando con questo gruppo e compannucci? È un gruppo giovanissimo dove si sta bene, i veterani comunque ci hanno subito inserito ed è un gruppo sanissimo. Il mister è grintoso e non vuole mai che ci tiriamo indietro, è un po' le mie caratteristiche, quindi posso trovarselo che bene.